qui c'è proprio un problema nella valutazione ragazzi ed è grave comunque andiamo a vedere le pagelle direttamente dalla barobiola.com pagelle fiorentina, nico gonzale se sbaglia, anzolà, sciupa, raniere e faraoni migliori è vero, raniere ha chiuso tutto in difesa e faraoni ha fatto tutta la fascia a me quarta ha sofferto un po' turam comunque ma turam è una gazzella andiamo a leggere non concedere nulla è difficile andiamo a leggere il primo, Terracciano 5 e mezzo, posizione da rivedere sul gol di Lautaro, concordo per il resto non comparate degne di nota di qualità non mi ricordo neanche come era messo era messo se l'aspettava nel mezzo la palla è rimasto l'uno in mezzo può darsi che non se l'aspettava ho capito però sono un po' tresimino sì, no, sicuramente però lì la devi aspettare certamente non è il problema di Terracciano ecco, siamo sinceri però il 5 e mezzo il 5 e mezzo ci sta tutto quanto arriviamo a faraoni voto 6 e mezzo concordo pienamente gioca la prima da titolare mettendo in panchina Caiode e gioca una grande partita salva su Carlos Augusto in maniera incredibile a pochi passi dalla linea di porta pericoloso anche quando si porta avanti faraoni la cosa totalmente assurda che io ad esempio ero uno di quelli che parlava di faraoni quando nel novembre di un paio di anni fa iniziai a fare le live a Passione Fiorentina cioè faraoni si vedeva già un tornante che poteva essere comune cioè è questo arrivare sempre comunque faraoni 6 e mezzo io concordo pienamente voi che ne pensate assolutamente assolutamente come prima da titolare poi contro l'Inter tanta roba devo dire esatto esatto ha limitato molto bene Carlos Augusto buona partita uno dei pochi acquisti che si è azzeccato da anni è l'unico per ora bravo bravo Luca meno male se si parla di congenialità forse è l'unico dell'ultime due o tre sessioni di mercato che hai beccato veramente il ruolo a cui serve l'allenatore siamo sinceri proprio il giocatore funzionale che ti serviva quello proprio apposta esatto esatto quarta l'argentino il Cino voto 6 sbaglia un passaggio nel primo tempo che per poco non mette Lautaro in porta per il resto gioca una partita attenta un po' in difficoltà con Marcus Turam ma il seglio lo do un po' più attento ecco a parte che si è perso due volte in velocità ma quello ragazzi ha i razzi sotto i piedi nel secondo tempo non ha mai giocato in difesa Giacomo Giacomo se c'era Milenkovic in posto suo faceva meglio ragazzi come piccità intendo allora inizio live abbiamo parlato appunto dell'assenza di Milenkovic e ragionando tra noi il fatto in sé per sé è che Milenkovic forse avrebbe sofferto la velocità di Turam capito non tanto Lautaro ma Turam perché ragazzi Turam sul serio è un grasso Michele te che sei del nostro pensiero il discorso legato sì 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 mi ho seguito anche live all'inizio credo avrebbe avuto molta più difficoltà specie sulle ripartenze sui contropiedi dell'Inter Milenkovic è un giocatore molto più fisico molto più sui calci piazzati sta attento sulla parte difensiva ma sulle ripartenze specie di Turam gli lasciava due tre metri tranquillamente ecco io prendo l'assist di Michele Milenkovic punta ad anticiparti o a stopparti subito se gli parti via in velocità o c'ha un rampino che si lega dietro al giocatore o non ti ripiglia più capite che ti voglio dire ecco l'anno scorso fa sempre adesso questa cosa quando c'è squadre contro attaccanti veloci anche a Roma per dire l'anno scorso quello che inseguiva i giocatori era più Igor che Milenkovic ok arriviamo dimmi Lore dimmi dimmi per questo io metterei tra i due difensori centrali uno grosso uno veloce non tutti e due veloci ma vabbè non è stato questo il problema di oggi per l'amore del cielo però secondo me Quarta ti dà una soluzione di più rispetto in fase offensiva gli esterni sono il nulla cosmico sì ora si dice di volta questa volta perché gli attaccanti non segnano l'Inter non è che ha avuto chissà quanti occasioni quindi vuol dire che hanno lavorato secondo me bene non lavoravo bene io oddio era solo un appunto sì sì ma anche io avrei messo Milenkovic lo dico però guardando poi la partita Maranieri in questo momento non lo puoi togliere c'è Vincente ha zaccato sì concordo ma Maranieri Maranieri lo puoi togliere anche se non e appunto ti rimane concentrato per 90 minuti vabbè Maranieri voto 6 e mezzo le ha prese tutte in difesa tutte le ha prese hanno 99 Maranieri sì 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 mi pare di sì ma controlliamo Maranieri Viola che sceglie sempre il tempo giusto anticipa interviene sempre per togliere tempo spazio e pallone all'avversario perfetto sì è 99 no ah però ha scritto del numero 99 forse non è come 99 si è confuso piccolo errore ma hai visto data la concitazione ma ma tra le come mi pare può capitare può capitare ecco possiamo dire possiamo dire che la netta crescita di Ranieri in posto dal titolare è suo sul mancino da titolare nazionale altro eh da titolare nazionale no ragazzi sta facendo sta facendo una stagione eccezionale quindi voglio dire il suo lo sta facendo e bene rimarrà il punto interrogativo di far giocare o non far giocare Milenkovic però parliamoci chiaramente a parte due volte Turam che hai scappato e un contropiede poi non è che hai patito oddio mio all'andata all'andata ti hanno fatto un culo ma una capanna passatemi il termine ok oggi no oggi no oggi no però c'è da dire una cosa c'è sempre una tonata mancava Cialanogo e Barella Cialanogo e Metrona dell'Inter Cialanogo e Barella ma c'era Frattesi pagato 42 milioni d'euro e Aslani Aslani che è la terza scelta la terza scelta terza quarta scelta dell'Inter sarebbe titolare nel tuo centrocampo no no assolutamente tranquillamente Aslani un altro che era a 15 chilometri da casa tua e non ti sei andato a prendere ok cioè siamo sinceri ecco arriviamo a Parisi voto 5 e ora approfondiamo un attimo se qualcuno si chiede perché non gioca titolare la risposta ormai nota è sotto gli occhi di tutti fa un errore grave a partita oggi ne ha fatti diversi si perde Lautaro sul gol e perde alcuni palloni che potevano essere pericolosi io sinceramente ho visto anche un po' di propensione offensiva ok forse anche troppa e non concordo non gli do la sufficienza a Parisi al massimo arriva un 5 e mezzo ma non concordo sul gol di Lautaro per me è farlo io continuo a ribadirlo e non non so secondo me è farlo però dice cioè lui nel senso a me non è piaciuto Parisi né in fase offensiva né in fase difensiva l'ho visto in grande difficoltà soprattutto a livello temperamentale ci può stare comunque però però il fallo c'è il fallo c'è ma comunque anche qualche cross poteva metterlo meglio c'è stato un momento in cui era molto più accentrato poteva andare un pochino più largo non mi è piaciuto Parisi alla fine ha avuto pure un'occasione per segnare Parisi però forse è più un cross Fili Viola dice una cosa giustissima Parisi mette una palla in mezzo che se hai un attaccante a modo la butta dentro è quella che poi il tiro cross anche quella la palla anche quella anche quello quindi eh boh insomma però io lo dico posso dirlo sinceramente poi magari mi becco le infamate tra Biraghi che magari ti può dare qualcosa forse di più ma che non regge più tante partite e Parisi che magari è un po' frastornato io continuo a puntare su Parisi non perché lo ritengo più forte perché in questo momento secondo me si equivalgono tutte e due in modo negativo ma faccio giocare Parisi e faccio continuare a provare a farlo crescere più che altro sì tu Parisi hai un margine di miglioramento di crescita di esatto di ormai ormai come riserva bene immagino se su quel cross di Parisi si sa che il se e il ma come si dice a Firenze è il verbo dei bischeri se su quel cross di Parisi c'è Lautaro Martínez in maglia viola è gol ora non ho in mente qual è il cross però all'ultimo quasi sulla lunetta dell'area di rigore in mezzo a Mario dalla scena ci saranno gli highlights a posto qualche ora poi lo guardiamo non credo che sia negli highlights quello se ne sono tirati no allora arriviamo ad Arthur il brasiliano voto 5 e mezzo esce dopo 45 minuti per problemi fisici il suo primo tempo è alla ricerca costante di un varco di una giocata per liberare un compagno non è facile ricordiamoci che l'Inter non ha fatto una partita eccelsa però 5 e mezzo forse ci sta secondo me però ricordiamoci l'Inter ricordiamoci che nel primo tempo era molto più attanagliata che nel secondo tempo proprio per questo cercava di non liberare spazi per la giocata di Arthur però prende 5 e mezzo ma io qui lo dico e mi assumo tutte le responsabilità anche se ti fa una partita da 5 esce e il centrocampo della Fiorentina peggiora anche se non sta facendo una buona partita infatti ad Arthur lui darei sempre fisso 6 e mezzo sinceramente perché tanto se non c'è lui non ti gira il peggior Arthur equivale nettamente anzi il peggior Arthur è nettamente meglio del miglior Maxi Lopez in questo momento allora e arriviamo a Duncan il ganese 6 e mezzo partito non bene ne parlavamo nel primo tempo 6 e mezzo gioca una gara piena di recuperi facendo se spesso scudo all'offensive dell'Inter propositivo anche palla al piede quando chiede ottiene spesso la palla per impostare e far girare la palla concordo col 6 e mezzo perché dopo i primi dieci minuti è cresciuto tantissimo tantissimo e il problema è sempre uno cioè la difesa può essere attento i terzini possono spingere e crossare il problema non è quello il problema è più avanti che ne pensate dei 6 e mezzo di Duncan? meglio il secondo tempo del primo per me anche per me ragazzi scusate io vi saluto bisogna vada via ciao ciao alla prossima sono abbastanza d'accordo con la descrizione della partita però io li do anzi vedo in lui magari mi sbaglio un leggero calo rispetto a un mese fa eh vabbè però le sta giocando tutte capi? vero perché anche lì siamo lì se è Mandragora che è entrato lo so lo so però arriviamo a Jack Buonaventura oggi che stazionava sull'out di sinistra come ha sottolineato il mister italiano non come esterno ma come attaccante esterno e questo fa capire cioè a me a me è piaciuto più oggi Buonaventura che nelle ultime sette otto partite ve lo posso dire sinceramente Buonaventura oggi con la fascia da capitano tra l'altro voto sei nel primo tempo grida vendetta al tiro in pianaria dove tira centrale nel secondo tempo gira tra le linee mettendo in difficoltà la difesa nera azzurra non sempre lucido perché spende tanto concordo pienamente dalla prossima partita io lo rivolgo lì sono sincero non so interpreta l'esterno in maniera simile a come la interpretava Saponara bravo 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 cioè non corre tanto però lavora molto palo al piede ecco è quasi una una cioè gli dà il pallone perché lui cerca poi il cambio campo o qualche palla dentro sul palo più lontano per qualche insedimento cioè vedendolo come era messo una strategia poteva essere palla a lui palla dentro Nico fa la sponda c'era un bel tranne dentro quindi questa poteva essere una soluzione però rispetto a ultime gare è meglio senza dubbio quindi sì ci sta però un esterno così alla Saponara deve giocare l'ultima mezz'ora cioè non puoi giocare con esterno così in 90 minuti l'esterno serve anche che ti faccia la fase difensiva ti corra su e giù l'italiano l'ha fatto perché Sottil non ha retto sì sì quello certo non lo so lo so sono ridotti così ti devi arrangiare poi anche Sottil ne parleremo ha fatto una valutazione perché sto ragazzo ci fa sempre male ma è che c'ha le palle che c'ha non lo so non lo so arriviamo a Giorcone voto 5 e mezzo per me anche troppo per me è un 5 cerca di rendersi pericoloso con alcune incursioni mettendo anche diversi palloni interessanti nel mezzo ma non basta per me 5 per me 5 è troppo sì sì ha fatto la sua miglior partita in campionato degli ultimi due mesi e il mio voto è 5 ecco quindi penso la cosa migliore che ha fatto è stato quel giallo non c'è a Lecce per una volta non lo vediamo io ho visto due incursioni in area ma non salta l'uomo lo vedo quasi timoroso non lo vedo nemmeno più come l'anno scorso che almeno qualche giocata forse riusciva a tentarla qualche anche in area il nostro Alessandro esatto TRSS che è anche nel gruppo Telegram diceva l'anno scorso pur non facendo niente ma almeno lo provava a saltare l'uomo non era dannoso fuori dannoso invece ragazzi è per esempio l'azione è seriamente un problema tra l'altro era diffidato oggi si è preso il giallo quindi meno male per una volta non lo vediamo meno male è il migliore del campionato suo che commenti ha il suo posto scusa Nico ripropongo io ripropongo lo stesso attacco con la tre quarti Buonaventura Beltrano Stenzola Sottila anche se è in forma sta in panca voglio prendere il commento di Kaladin che l'aveva già messo e lo passo gennaio un punto due pareggi Bologna rigori tre sconfitte due gol fatti uno su rigore tre rigori falliti ma non c'è fretta nessuno ci prende per la giacchetta gli attaccanti fanno bene e il frigo è pieno ne abbiamo già parlato in fase di mercato io mi sono esposto dicendo che il 2 di gennaio dovevi presentarti già con il terzino destro titolare che sostituisce Dodò e un esterno titolare meglio sinistro poi avevi tutto il mese di gennaio per vendere Breca Lonzola va bene e prendere anche altri due giocatori una punta un altro esterno di riserva a Nico González così non è stato fatto sono convinto e ne abbiamo parlato nel pre-live quando è venuto fuori la 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 vignetta su commisso riferito al mercato eh abbiamo letto l'articolo poi c'è una domanda da farvi su quella cosa lì la faccio magari a fine voti non dico aspettiamo perché magari viene fuori qualcosa ma secondo me se non tirano fuori qualcosa a fine a fine mese qualche fischio se lo prendano vedremo basta che carico basta che perdi altri due partite ma io lo spesso la prossima è con Lecce giusto? sì Lecce e Frosinone Lecce e poi Frosinone che devi farsi ai punti Lecce e Frosinone devi fare sei punti ha ragione Lucchino devi fare sei punti assolutamente sì se non li fatti su pochi ti superano tutti se ne fai quattro ecco continuiamo con le pagelle perché poi siamo in chiusura allora arriviamo a Beltran Flavio dice voto 5 e mezzo io ho già letto nella chat eh ma si è speso e tutto quanto mi trasformo un attimo in Flavio ottimo lavoro sulla tre quarti in fase di ripiegamento tutto quello che vuoi ma se ti capita una palla in area di rigore te non la devi ciccare devi sfondare il pallone e buchi la pancia al portiere quindi giochi tre quartista lo fai bene ti capita la palla in mezzo ai piedi in area di rigore la devi buttare dentro quindi se no sei un centrocampista non sei un attaccante voto 5 e mezzo tanto impegno tanta corse dunque qualche tocco non perfetto glielo si perdona esatto il problema è che non si rende mai pericoloso a volte fa un tocco di troppo e viene risucchiato concordo uscivetemi ma quello che stasera quello che stasera ha creato qualcosa sbagliato quasi tutto non è stato Beltran ma è stato Unzolà Beltran non ha avuto una mezza palla una che mezza tanto lavoro sì ma no 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 però dico anche Beltran bravo nei ripiegamenti bravo tutto quanto però l'unica palla che è sfilata dentro l'area di rigore l'ha ciccata e poi Buonaventura non l'ha presa per bene meglio il primo che il secondo secondo me anche allora se non abbiamo niente da aggiungere su Beltran andiamo su Unzolà voto 5 e mezzo troppo grandi e pesanti gol che si mangia ragazzi oggi bene bravi movimento e tutto quanto ma qui si rasenta tutto il limite del giocatore un è clamoroso in cui fa bene a tirare ma poteva anche servire Buonaventura meglio posizionato no per me ha fatto malissimo a tirare perché lì un Toni un Gilardino un Calice un Calice la stoppa si gira e l'appoggia a Buonaventura e Sommer che va verso Unzolà lascia la porta sguarnita ed è lì la butti dentro e quello è gol eh quello è gol ragazzi quello è gol due volte lo finiamo di leggere mezzo voto in più per il fatto che grazie a lui la Fiorentina si procure il rigore lo santo prende la maggior parte dei palloni che li tirano ma sbaglia sempre sul più bello sbaglia sempre sul più bello perché ragazzi il limite è quello non so come pensate voi prego ragazzi sbaglia tanto cioè fa tanto ma sbaglia tutto cioè questa forse la sintesi della partita in Isola a parte il rigore evidentemente non è l'ennesima dimostrazione vediamo cosa succede in questi giorni non so cosa può succedere però forse lui cerchere di cambiare aria secondo me questa è la prova che è un giocatore limitato perché il movimento alla fine ce l'ha cioè si vede un attaccante qualcosa può fare perché anche il gol quello nel gioco nel passaggio a Sommer perché lì non mette il pallone dentro col sinistro quale scusate cioè prima del rigore anzi prima della palla che lui doveva passare la Buonaventura la palla in cui diventa la palla in verticale e lui lì ha lo spazio col sinistro all'inizio poteva calciare di prima però non era facile oppure per mettere adentro lui è mancino lui va se la mette sul destro e la passa a Sommer perché la passa cosa voleva fare e chi voleva fare ma non so chiediamoglielo a lui non mandiamogli un messaggio mi dispiace perché se lui oggi riesce a fare uno dei gol che ha fatto siamo qui diciamo che ha fatto una buona partita ma non è riuscito a zeccare tanto fumo e poco arosto cioè anzi tanto fumo e zero arosto è un giocatore purtroppo è limitatissimo si è preso il rigore non è una cosa buona se ne dovrebbe accorgere non è da Fiorentina dovrebbe andare più in basso cioè per il suo bene comunque consiglio consiglio una camomillina al nostro FGem che ci dice che la rosa è limitato sveglia io da ottobre che dico in live reaction che il nostro allenatore tira fuori il sangue dalle rape più che dire questo uno è che deve dire sono sveglio sono sveglio per tanto tempo FGem ma sfido chiunque a pensare il contrario sfido chiunque a pensare no ragazzi l'abbiamo visto tutti anche solo se li passa il pallone a Buonaventura e Buonaventura fa gol gli dai sei e mezzo perché ti fa far gol ma se non fai niente se te se Zola stoppa la palla manda al baretto De Vrij si gira l'appoggia a Buonaventura e Buonaventura segna Zola fa quello che richiede il gioco della punta per italiano anche su Sommer che è in fuorigioco lì si mangia cioè quello lì è un gol mangiato non è buono non era buono perché era fuorigioco ma quello è un gol mangiato davanti a Sommer su quel passaggio sbagliato di lui in costruzione che Buonaventura gli ha dato prima che è in fuorigioco inizio partita anche quello è un gol mangiato cioè questo è un calciatore che non è in difficoltà è in grande difficoltà e no non è un giocatore da Fiorentino non è un giocatore da Fiorentina no vediamo se venerdì sarà Lecce e stanno tutti d'accordo qui penso però se rimane se rimane se dovesse rimanere non cambia niente io da qui forse potrebbe arrivare Vargas perché è andato via Brecalo e tutto quanto ma da qui a fine se non cambia niente il reparto offensivo voglio vedere questo tris scusate c'è un ritorno vediamo un po' sì era l'ore ok dicevo voglio vedere dopo te lo riattivo voglio vedere questo tris di tre quartisti dietro un zola ovvero Buonaventura Beltran Nico Gonzalez da qui a fine anno se non cambia niente perché io sono sincero non so che cosa dire dal mercato e poi approfondiremo ma tanto ve la faccio ora la domanda rapidamente dimmi commesso è uno che ci tiene tra virgolette a giudizio cioè lui è uno che gli americani sono così quando vengono contestati vengono toccati il fatto che sia girato quel manifesto potrebbe smuovere qualcosa dentro di loro non dico di andare per un giocatore a 30 milioni ma dire facciamo qualcosa rapidamente in questi quattro giorni cioè che li tocchi dentro perché dovrà sapere che sono girati quei volantini l'americano ci tiene molto al giudizio solitamente se non lo vuoi può far smuovere qualcosa anche se non dovrei neanche arrivarci al punto che doveva esserci qualcosa a far smuovere il tutto però può aiutare tra virgolette io penso che sia troppo tardi quindi a casa me si dice meglio tardi che mai volendo però che volantini è un volantino con scritto Rocco Svegliati in cui c'è la sua faccia e il suo tra virgolette il suo disegno quello che mi ha fatto vedere a Mediaset a Sport Medias in cui lo fanno le rubriche dei giornalini in cui c'è scritto Rocco Svegliati come dire comprato ai giocatori che deve fare a Poerino lui cacciarli vabbè oddio bravo effettivamente non è una brutta idea cacciarli almeno Prade è cacciarlo con tutto rispetto comunque io ho la sensazione che non si faccia più niente di calcio mercato c'è tutta brutta la sensazione ma pure il suo Vargas ma che lo poi andiamo a fare 7-8 milioni buttati però l'esterno devi fare uscito break quello lo fanno gli Vargas è uno medio ore non cambia niente ti devo ringraziare ti ringrazio Prade commisso però Vargas sa fare pure il tequartista sì sì in queste gare io l'ho visto ha sempre fatto oltrequarti ma dopo tu si spostare Bonaventura e mettere Vargas su tequart Buonaventura a 35 anni non può fare tutto il giorno di risolta fare l'esterno d'attacco ragazzi no FGemma FGemma no FGemma e qui ti dico la stessa cosa che dico non da mesi ma a darmi perché se non gli sta bene se non gli sta bene va a casa se non gli sta bene va a casa dato che si parla che il mercato lo fa barone io se fossi Prade e mi dice il mercato lo fa barone io prendo prendo e mi licenzo e gli dico io qui non ci voglio stare se lui ci rimane se lui ci rimane e ci butto anche lui perché lui adesso insieme a Burviso dato che qui si parla di spendere poco non è mai riuscito a trovare un Ferguson a 3 milioni d'euro perché se gli porti un giocatore a barone che costa 3 milioni e allora lui dice 2 milioni d'euro te li spendi non vede l'ora no allora iniziamo a differenziare un attimino ma nell'alberone ci sono tutti ci sono ragazzi faccio un paragone alla ogni santi se io sono un meccanico e lavoro in un'officina e il mio capo non mi garantisce gli strumenti necessari per aggiustare le macchine e io però ci sto bene e resto lì perché prendo 2 mila euro al mese perché non me ne frega niente io ci resto sono libero di rimanerci però non mi devo sorprendere se poi la gente in giro va a dire che non ha aggiustato una macchina in 5 anni è molto semplice il discorso quindi pradè e non pradè sono tutti responsabili no Lujan se non ha un busce in capitolo prendi e vai via e vai a casa vai basta se a me mi prendono se a me mi prendono a lavorare in un ufficio perché mi vogliono far fare il direttore e poi mi ritrovo col moscio che lei dà in mano a dare il cencio in terra tipo signori andate a quel paese e mi levo di mezzo ok oh guardiamoci chiaramente perché se no perché se no si scade nell'ipocrisia perché quando c'era della valle il problema era con Nini ora che ci è commisso il problema è il barone vogliamo parlare che non è riuscito mai a trovare un ragazzino da buttare in questa squadra ma Mandragora chi l'ha portata a Firenze oh Mandragora l'ha portata a Barone ma chi cazzo ne sa Barone chi era Mandragora magari Mandragora Cocorin Cocorin l'ha portata a Barone ma sana sega lui scusate ragazzi di chi è Cocorin ma di che si ragiona se no se no non è più colpe meno colpe uguale non ha più colpe meno colpe uguale perché se te perché se te Burdì è uguale esatto esatto 4 milioni per Infantini Ferguson Infantino Ferguson nel Bologna è stato pagato 3 milioni d'euro più il pione di giocatore più il pione di giocatore 4 milioni Doie quanto l'ha pagato il Bologna e muo vediamo muo vedo per curiosità sì quindi alla fine tu l'avevi pure sfidato Doie quindi e ti rispondo e ti rispondo subito l'hanno venduto perché voleva andare via e sarebbe andato via uguale e te dal dirigente devi aver già una punta sotto mano perché se no sei un coaccaracqua anche te oh mica 9 milioni 9 milioni 9 milioni Doie 9 milioni ah bene con i 15 l'abbiamo affrontato io mi ricordo l'andata al Franchi che volava sulla fascia ma a noi un Suslov come quello dell'Ellas Verona non ci è mai stato verso di cercarlo io oggi ho visto un pochino oh bello Gudmundson preso da dove non si sa ha pagato uno sputo l'anno scorso mi dicevano ma che prendi giocatori dalla serie B bene per Dio ciò piacere ciò caro significa non avere significa saper lavorare solamente coi procuratori ti porto questo ti porto questo ma questo sì e questo no basta è la verità è la pura verità andiamo avanti poi approfondiremo il mercato Maxine Lopez voto 6 entra all'inizio del secondo tempo e svolge con ordine il suo compito troppo compitino per me è troppo 6 troppo compitino non prende mai iniziativa non aumenta mai ritmi per me un giocatore in questo momento inutile un altro giocatore che meno male che è in prestito almeno andrà via Giulia e non torna più è un altro giocatore inutile a fare più a Maxine Lopez che ad Arthur italiano aveva chiesto uno che sapesse fare la doppia fase la mettere vicino ad Arthur gli hanno preso uno uguale a lui ecco anche questo anche questo fanno gli affari solo con gli amichetti procuratori è Pradec questo è Pradec Pradec no è Pradec ti riconosci che barone con i suoi procuratori ma ragazzi ma se veramente se no è l'ipolesia più totale ora li conosce dopo 5 anni ora dopo 5 anni li conosce anche lui ma sono tutta gente che porta Pradec ragazzi se no veramente qui si ragiona del niente si ragiona la critica facciamola non mi piace a me cercare campi espiatori sono tutti colpevoli così come se a Zecaso sarebbero tutti perché allora vado anche da Burdisso il Bologna compra l'attaccante del Velez a 6 milioni Castro che quella era la punta perfetta per il gioco d'italiano ed è andato al Bologna è andato perché il Bologna a fine anno venderà 50 milioni d'ero Zigze e c'ha già il titolare a 6 milioni così si fa perché i mal di pancia di Vlaovic erano già da prima ragazzi e se poi la situazione implode te da dirigente sportivo al tuo direttore generale devi aver già trovato un attaccante vuoi un altro errore di Pradec? te Vlaovic gli devi far rinnovare il conto perché andiamo troppo indietro il giorno in cui arriva Prandelli e Prandelli dice Vlaovic è il titolare tu gli devi far confermare 5 anni di contratto a un milione e mezzo e lui firma eh firma Vlaovic perché non ha nessuno Vlaovic hai messo il titolare Vlaovic ma prima della partita contro il Verona non lo so quando segnò il rigor c'è un contratto di due anni c'è un contratto di due anni hai messo il titolare un ragazzo del 2000 contro due due anni poi sappiamo che nel calcio moderno appena uno fa bene due partite ti vengono a chiedere soldi di Amatti c'è una cosa incredibile anche che voglio un altro errore di programmazione un altro errore sono pieni di errori cioè come rinnovo di Buonaventura sperando che rinnovi che pure quello sarà sì ma anche lì perché Buonaventura ha 36 anni a titolare Fissona Fiorentina 35 scusate eh ma perché non hanno non hanno avuto soluzioni perché Pedro nel razzo fa 10 minuti grazie comunque grazie a Tuangelo sei la prima decisione di Fradell all'inizio della sua seconda avventura in viola è stata non riscattare forse dei problemi con i tempi avevo letto io me lo metto in dubbio ok comunque arriviamo all'ultimo voto ma Fradell ha segnato una punta nella Fiorentina che non ne cade boateng 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 Kevin Prince boateng a me stesso ma anche nella prima c'è fece l'Eurogollo proprio contro il Napoli ma dai ragazzi ma di che è un gran gol fece sì l'unico boateng da quando mai boateng è una punta di nuovo Piontek Piontek non ha segnato un attaccante andiamo andiamo avanti ultimo voto Nico Gonzales sconcordo col 4 e mezzo perché non si è visto e appunto sbaglia il rigore torna a giocare dopo oltre un mese sbaglia un rigore che sarebbe Valso Oro per il resto si vede poco e il peso del rigore doveva capitare anche a Luigi il primo rigore anche ai migliori sbagliano lì la differenza io l'ho sempre detto tra l'altro l'ho cuffata perché l'altra volta ho detto 14 rigori segnati 14 volte spiazzati proprio su Salumbe ho portato fortuna lì per come li batte lui la cosa importante è spiazzare il portiere nel momento in cui uno spiazza il portiere la para di lui non è riuscito a spiazzarlo ma Sommer è un pararigore e Sommer non ci ha fatto andare al mondiale è non ci ha fatto andare